Conte Danilo, dove è il conto? A Conte del permesso, permesso, permesso Danilo, andiamo, andiamo, andiamo tutti vi chiamano, tutti vi vogliono la festa, sentite come vi chiamano? Danilo, Danilo no, 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 scusate io non ho sentito, no, no, come non avete sentito? Danilo, andiamo, tutti vi vogliono la festa, la patria vi vuole ecco, e se la patria non conta su di un conte, su cosa volete che conti? Conte ma non potrebbe contare su di me domani pomeriggio no, no, è possibile, andiamo, andiamo forse non ci siamo spiegati, Diego, se io ho qualche cosa da fare, eh? Magari facciamo così, facciamo un ultimo brindisi un brindisi? Ecco, brindate anche voi. A cosa brindiamo? Io direi alla triplice alleanza triplice alleanza? Sì, bacco tabacco e bene oh, padre oh, padre quanti onori mi dai ma trovi noi e trovi guai permette almeno notte stile lontano la diplomazia non mi potrà da incedire se al mattino dobbiamo dormire perché nessun può stare in vero allo scrittorio un giorno interno seppur l'apporto devo fare obbligo tutti a lavorare il diplomatico davvero non è senz'altro il mio mestiere c'è solo un giorno in tutto il mese che è gradito ricordare e quando arriva l'ospedale che vado a legno ritirare poi sotto in tasca sono un re non ho problemi per davvero e per due giorni forse tre Parigi intera ma per te vado a Maximal assieme ad avventure serate non grigia non d'un compagnia che l'occhio che l'occhio che l'occhio che l'occhio che l'occhio ma per la patria mia non dimenticare di farà si stura lo sciocco si canta di sciocco e poi carizzo e baci e mi ti segui e l'occhio lo sciu che l'occhio è un marco frufru la patria mia mi fa vivere e l'occhio che l'occhio mi chiamo mi chiamo mi chiamo mi chiamo la festa mi chiamo la festa ma si può sapere che cosa vogliono da me la patria mi chiamo la patria vuole 60 milioni di franco 60 milioni di franco e io da dove li prendo riegos dovete sposarmi sposarmi io no riegos voi voi sapete io come la penso eh innamorarsi spesso eh fidanzarsi qualche volta sposarsi mai vabbè ma andiamo andiamo da quella parte andiamo da quella parte riegos io sono da un progetto secretario non iniziamo non iniziamo grazie grazie di grazie grazie Grazie.